1.500 metri quadrati di novità, innovativi dal punto di vista tecnologico e di vivibilità per i genitori, figli e personale medico. Così si presenta il nuovo reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Gemelli. È attrezzato anche di palestre, sale comuni, collegamento wifi gratuito, sale visita e dei hospital. Uno spazio a misura di bambino per rendere il loro soggiorno più piacevole e meno traumatico. Molto spesso queste famiglie si trovano ad affrontare tanti problemi legati al trasporto dei ragazzi dalla carrozzina al letto o non avere delle strutture igieniche adeguate. Questo reparto è stato appunto pensato perché i bambini possono avere anche una loro autonomia. Ci sono delle innovazioni anche tecniche come dei sollevatori a soffitto che permettono il trasferimento. Quel bambino si può telecomandare dal letto alla carrozzina o addirittura in bagno. Accanto a questo c'è la possibilità di avere l'opportunità di restare in un ambiente dove le famiglie possono essere educate ad usare altri apparecchi come la macchina della tosse che normalmente non sono prescritti, sono poco conosciuti perché vengono visti un pochino come minacciosi. La possibilità di conoscerli durante un ricovero permetterà un migliore inserimento di questi strumenti nella routine di questi bambini e un miglioramento della loro qualità di vita.